Siamo così diverse tra di noi, ma tutti abbiamo in comune 5 bellissime ragioni per preferire maglieria velicrensnia. Elena ha scelto velicren per il suo calore, Anna Maria per la sua morbidezza, Raffaella e Virginia per la sua leggerezza e praticità ed io ho scelto la maglieria velicrensnia per la sua indeformabilità, calda, morbida, pratica, leggera, indeformabile. Maglieria velicrensnia!